Allora, a proposito di stigmatizzare, chiaramente le stimate rivoltano il segno della procedizione. Sì, certo. Quello che a me risulta ostimo e difficile da capire è che tutti sappiamo, sappiamo la donna di amore, vediamo sullo scheletro dove crocifigevano i romani, quindi sul polso, non sulla mano. Come mai il segno della crocifissione avviene in un posto dove non ha avuto. Sì, allora, guarda, ho finito di leggere giusto ieri sera il libro delle visioni della passione di Cristo di Anna Caterina Emerick. E lei riporta che Cristo, per fargli più male, lo hanno legato ai polsi e gli hanno piantato i chiodi nelle mani, perché lo odiavano così tanto che per farlo soffrire di più hanno fatto questa scelta qui. Quindi il demonio si è scatenato con tutta la sua ira. Detto questo, perché tu potresti dirmi, vabbè, ma sono delle visioni, posso dire un'altra cosa. Tutta l'iconografia cristiana riporta che Gesù è crocifisso sui palmi. Quindi se la Santa Vergine non deve svolgere una missione delle scienze positive, che ho già detto sono in terribile squilibrio e ci stanno distruggendo, ma vuole trasmettere un messaggio di scienza spirituale e quindi anche etico, deve parlare con la simbologia che il popolo conosce. E quindi... Se andiamo per buona la sindone, conferma ai polsi. Allora, la sindone, vabbè, è tutta macchiata, ma ribadisco, accettando che le visioni di Anna Caterina, perché se tu la vedi, la sindone è tutto un grumo di sangue, quindi non è facile.